agli amici di capri spettacoli vi raccomando seguiteci sulla pagina perché veramente sono brave persone non ti chiederanno mai e puoi mai di fare un video nemmeno la prima mattina quando ti sei svegliato però seguiteci mi raccomando bacia a Zaffuna, Bavruna, Midiara e dopo questo video vi posso dire che mi hanno pagato il caffè ma c'è un nudo con il caffè va bene un bacione ciao